detto questo, vai tiro io la multi Franci, io ho i mia perché il resto ce l'ho tutto una multi, posso concedermi voglio io i mia vabbè adesso via, adesso non capisco tutto Bennet non fa schifo c'è ci sei l'unica cosa che puoi fare è tirare fuori Amber non puoi Lisa non puoi, Goro Goro mi faccio tirare fuori Goro ok, Gino l'ho già finita Gino mi mancano anche Kuki può essere anche finita adesso, è già uscito il 4 eh esatto sembra chiaro no? ragazzi la fortuna me la tengo per me, non la do agli altri io penso sempre così ok, cioè il primo l'ho fatto e ho fatto un errore voglio vedere, voglio dare fiducia voglio dare fiducia un'altra multiplica perché siamo super 45 fra eh, primo allora a me Tainari e Zongli non gli interessano perché Zongli ce l'ho Tainari no però devo prendere Gagno C3 per Dory dopo sono a 45 faccio un Piti da Yoimiya ma ce la fai? ti ricordi cosa abbiamo trovato l'anno scorso? lo so, però Giulia aspetta un attimo male che ti va dopo c'è Ganyu garantito si, si, no, no mi va bene entrambe è vero però poi c'è Mioio Mioio ti darà della roba anche lei no, è che da Ganyu però volevo prendere più copie di Dory eh, ok, ma tanto lo resetti che cazzo dopo non pulli più fino a se ti arriva il 5 stelle che non vuoi Giulferma hai assicurata di Yoimiya no, no, no Yoimiya non è assicurata l'ultima che ho preso è stata Klee non ho assicurato niente se perdo il 50-50 c'ho Ganyu garantita che va C3 no, più che altro più che altro ragazzi sapete perché mi è venuta voglia di fare un Piti per questo io non so se hai visto questa cosa fra ti giuro era da un sacco che non ci badava perché io mi ero dimenticata che anche questi dai ragazzi allora l'anno scorso mi ha trollato questo individuo qua dai un C6 ci sta qua l'anno scorso a che costellazione l'abbiamo preso Diluc quando è uscita Yoimiya perché mi ha spuccato lui dai Yoimiya secondo me era tipo C3 C2, C3 poi Alvira grazie per il bersone vediamo che cosa succede oggi siamo arrivati a 100 sub che in agosto sono un numero spaventoso era Diluc C3 ma guarda quanto ne sa vediamo se esce Yoimiya siamo a 45 e grazie mille Alvira Franci caro bisogna vincere il 55 ma basta questa tipa l'ho trovato tanta volte 2 Yoimiya in una multi è dai tempi di Ganyu che non faccio che poi Ganyu no erano 3 Ganyu in 50 multi no 2 Ganyu in in 5 multi esatto in 4 multi bello oh Sacrificial stai zitta sono 3-4 stelle in una multi li portiamo a casa anche io bastarda 65 vai così boom eccola lì no Satu ma infatti io ti voglio bene lo so che me l'hai donata tu la centesima prossima settimana lo spacchiamo il pizza su Fall Guys perché dovrò aiutare Satu a recuperare il suo account dai Yoimiya ragazzi vi rendete conto che se esce Fra se mi esce Yoimiya io ho tutti i personaggi del gioco ah si ok ragazzi Rosario Rosario ce l'ho ci sei non mi interessa lei va sempre bene ciao amore ciao amore mio amore ti sto portando al 90 ciao Rosario quindi singola siamo a 65 ah no che no devi fare un'altra multi poi vediamo e poi vediamo se fare la tecnica suica niente siamo lì dai Rosario una porta mi io Rosario muoviti eh lo so si si facciamo la tecnica suica Yunjin ecco quella si dovrebbe a me io ci ho messo un po' e a finirla Yunjin non è stata molto buona per il momento ragazzuoli questa potrebbe essere l'evocazione dell'anno l'evocazione con cui la Giulia chiude il Pokédex e considerando che non scioppo da febbraio sarebbe incredibile bisogna trovare Yoimiya c'ho un 50-50 da vincere nel caso in cui non si trovi Yoimiya le priorità sono Jin Diluc per farlo ci sei lo devo dire Mona Mona e poi Cici e Keqing Pari non mi interessano Cici è tipo C4 c'è lo off fra trova Yoimiya allora caricamenti roba del genere non c'è niente perché ho già che è Cici non si è non è finita 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 Giulia Grazie, il mio dito magico Ma Giulia, perché non pulli per io e mia? La sottovaluti? Non mi esce! Non mi esce quella m***a umana di donna È il secondo anno di fila che non mi esce Non è questione che la sottovaluto Non faccio l'analisi, è Non mi esce, quella bastarda Davide Merendina, grazie per il beat Quella lurida Giulia, non è ancora finita Quella sporca È la tecnica sui Ma vaffan Hai trovato Rosario prima Quindi era garantito Oh, se no Ma quante cicci ho trovato quest'anno? Beh, teoricamente però Tainari può uscire dopo come spuchi Come spuchi C'è? Giusto? Giusto? Sì, può uscire Qui c'è un garetto in atto tra questa tizia Oh, tra un po' posso risuscitare la gente Che schifo Ti odio Ti odio Però Mi porterai a portare Dov'è? Mi ha perso Dov'è cacchio è? Mi ha perso Non c'è più Te l'hanno cancellato Ah ok, c'era una fila ancora Però Mia cara Cici Mi sbloccherai questa Però ragazzi mi dispiace ma Yoimiya basta Mi odia Cioè è ufficialmente diventato il personaggio di Genshin Che mi odia Mia mi odia C'è anche Rivala 70 Ci ho provato io a giocare con lei Dai Luke vince Dai Mori Defi No Esplose la corona vertebrale Esplose